Ciao ragazzi, benvenuti su Cassiub Drums. Oggi sono felice, in questo periodo sono felice perché ci stiamo avvicinando a un periodo dell'anno che secondo me è bellissimo, in cui siamo tutti più tranquilli e abbiamo un po' di tempo per noi, abbiamo un po' di tempo da dedicare alle cose che ci fanno stare veramente bene. Noi battitori di pentole avremo sicuramente molto più tempo per suonare, molto più tempo per studiare il nostro strumento ed è proprio su questo secondo punto che mi voglio focalizzare oggi. Cominciamo prendendo ad esempio il nostro cellulare e aprendo un'applicazione che può essere aperta appunto da cellulare ma anche da iPad, c'è un sito web eccetera eccetera eccetera, in cui all'interno ci sono più di 30 degli insegnanti migliori che abbiamo in Italia, che ovviamente sono in continuo aggiornamento, quindi sono 30, poi 35, 40, 60 e poi avete capito. E proprio grazie alla didattica di questi insegnanti noi possiamo andare a creare il nostro percorso didattico che sia un percorso per genere, quindi vogliamo suonare pop, rock, reggae oppure un percorso più tecnico, quindi appunto sulla tecnica, sulla coordinazione, sul timing, quindi tutto quello di cui abbiamo bisogno in un certo momento. Tutta questa cosa che vi ho detto fino adesso non è fantasia ma esiste veramente e si chiama Vibely. Vibely non è un corso ma è una piattaforma streaming dove con un abbonamento abbiamo a disposizione tutto quanto e oltre alla batteria anche tutti gli altri strumenti, c'è batteria, c'è chitarra, c'è tecnica di registrazione, arriveranno nei prossimi mesi sempre più strumenti ed è tutto sempre in continuo aggiornamento. Quindi io oggi sono qua per spiegarvi tutto quanto, per darvi un codice sconto che vi farà risparmiare il 30% sull'abbonamento annuale di Vibely, quindi vi do il benvenuto in questo video del Black Friday. Il codice sconto di cui vi ho parlato, cioè DRUMS30, che vi dà la possibilità di avere uno sconto sull'annuale di Vibely, è valido fino al 29 novembre, quindi tutta la settimana del Black Friday. Perché Vibely è così speciale? Perché al suo interno comprende tutti i migliori insegnanti italiani di chitarra e di batteria e col passare del tempo anche di tanti altri strumenti. Facciamo un esempio, voi siete dei super metallari che volete imparare il doppio pedale? Benissimo, andate su Vibely, c'è Paolovic, che è uno degli insegnanti appunto di Vibely, che vi spiega nel dettaglio il doppio pedale, partendo dalle basi, 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 fino ad andare ad un livello avanzato. Oppure siete amanti della musica trap e pop? C'è Jacopo Volpe che spiega nel dettaglio questi generi musicali, andando anche a farci capire come ha concepito, come ha suonato e come ha studiato i brani di Salmo. Altro esempio, andando completamente da un'altra parte, siete super rockettari, ma volete imparare jazz, ma non l'avete mai suonato? Molto bene, c'è Bagnoli, Stefano Bagnoli, che è un altro insegnante che c'è all'interno di Vibely, che spiega il jazz proprio partendo da zero, sia con le bacchette, sia con le spazzole. Tutti questi insegnanti hanno creato delle serie didattiche, che adesso poi pian pianino vado a spiegarvi bene che cosa sono, dedicate agli aspetti che caratterizzano il loro suono e quindi proprio in generale il loro modo di suonare, in un determinato genere, in un determinato ambito, in un determinato argomento. Ogni serie didattica è composta da tante puntate al suo interno, pensatela proprio come un qualsiasi servizio streaming. Una serie completa è della durata circa di un'ora, mentre le puntate all'interno di ogni serie sono di 10, 12, 15 minuti. Questo vi permette di fruire di questi contenuti in qualsiasi momento, anche se avete poco tempo. Poi con la questione dell'applicazione lo potete vedere veramente in ogni momento, in ogni posto in cui siate, veramente ovunque. E il fatto di avere delle mini lezioni, diciamo tra virgolette, permette agli insegnanti e all'allievo soprattutto di essere super in focus sull'argomento che si vuole imparare. Perché come vi ho detto, Viably non è un corso, non è il solito corso che dura 12 ore ed è su un argomento specifico, ma appunto 12 ore filate non sono così semplici da gestire proprio per riuscire a rimanere perfettamente concentrati su quello che si fa. In questo modo invece è tutto sicuramente più comodo, più piacevole, anche più divertente, perché il divertimento comunque è sempre una cosa super importante e vi permette di imparare più velocemente gli argomenti che volete imparare, che volete studiare. Il vantaggio di tutto questo è proprio riuscire a creare un'abitudine all'allenamento che ci permette di migliorare in modo graduale. Perché in questo modo come si migliora? Si migliora in maniera diretta, divertente, come vi ho già detto, divertente ragazzi, questa è una cosa super importante. E appunto andare perfettamente a vedere le cose che interessano creandosi il proprio percorso didattico, il proprio percorso didattico, non quello di un altro batterista, il proprio. Quindi detto questo mi sono spostato di qua, non ve l'ho detto, perché voglio farvi vedere un attimo Viably, quindi mi metto le cuffiotte come al solito quando sono in questa posizione, attacco il cavo che è qui e siamo pronti a partire, andiamo direttamente su Viably. Quando entriamo su Viably, atterriamo subito sull'home page, qui ci sono in questo slider iniziale tutte le ultime uscite, qui c'è chitarra metal, qui c'è il mix della batteria, le fondamenta, questo è già uno degli strumenti nuovi che sono stati implementati in Viably. Ed essendo tutto incluso all'interno di Viably, questo ci può essere super utile perché è mix della batteria, quindi se qualcuno di noi è interessato anche un attimino a mixare il proprio strumento, questo potrebbe essere molto interessante. Andando avanti la batteria rock stagione 01 di Daniel Fasano, andando ancora avanti amplificatore di chitarra con Michele Quaini, tecnica pura con Tancredi Locino, quindi tutto quello che serve per avere la tecnica a posto, la tecnica perfetta per suonare il nostro strumento eccetera eccetera eccetera. Qui poi ce ne sono delle altre, ad esempio il pop spiegato da zero con Fabio Vitiello. Andando avanti la cosa che rende fruibile veramente Viably sono i filtri, qui abbiamo quattro tipologie, categoria, autore, difficoltà e genere. Nella categoria noi abbiamo una marea di possibilità, ad esempio stando su batteria, batteria frase di improvvisazione, migliora il groove, migliora il timing, batteria da zero anche, che in pratica va a far vedere come suonare la batteria, partendo proprio dal super 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 base. Queste sono cinque mie stagioni, cinque miei contenuti, poi c'è una serie di Fabio Felkircher sullo shuffle e le terzine e una serie di filmer che introduce al drumming pop. Andando avanti, oltre a batteria da zero, possiamo ad esempio prendere qualsiasi altra cosa, facciamo finta che ci interessi migliorare il groove. Qui abbiamo tutte quante le serie che ci permettono di migliorare il nostro groove, come abbiamo visto rock e pop, ma ce ne sono tantissime altre. La trap music spiegata da Andrea Bessone. Ad esempio, guardiamo questa prima stagione rock di Daniel Fasano. Cominciamo a guardarmi un pezzo. Quindi Daniel Fasano in questa serie ci spiega, parte con questo pezzo di CDC Becky Black e poi incomincia a spiegare da zero come andare a suonare la batteria nel rock. Come potete vedere, all'interno di questa serie ci sono sette puntate, a parte questa qua da tre minuti che è la prima, le altre sono da nove, da dieci. Più o meno si sta sempre su questa tipologia di durata qua, appunto, per tutto quello che vi spiegavo prima. E vi voglio far vedere che per ogni serie abbiamo delle risorse scaricabili. Quindi noi possiamo andare a scaricare, ad esempio, il PDF che c'è per tutte le serie e nel PDF c'è tutto scritto all'interno della lezione, partendo dalla leggenda per riuscire a capire ogni nota bene a che pezzo della batteria corrisponde. E poi, andando avanti, abbiamo sempre tutto quanto trascritto. Tutto quello che Daniel, in questo caso, suona all'interno della puntata ce l'abbiamo trascritto. La cosa super, super interessante è che, ad esempio, facciamo finta che ci siamo presi benissimo con questo esercizio qua e vogliamo capire dov'è all'interno della puntata. Noi possiamo capirlo di qua perché puntata 03, quindi nella lezione numero 3, time code, cioè al minuto 03 e 17. Se noi andiamo nella puntata 03, minuto 03 e 17, troveremo questo esercizio suonato e spiegato. Quindi questa è una cosa super, super, super comoda. E più che altro, velocizza il lavoro perché non abbiamo più bisogno di andare a cercarlo, poi chissà dov'è, eccetera, eccetera, ma abbiamo tutto scritto. Oltre a questo, anche tutte le basi scaricabili di quello che suona all'interno della serie, di quello che spiega, tutte le basi senza batteria, ovviamente. Altra tipologia di filtri, possiamo scegliere le nostre serie per autore. Se noi vogliamo andare a studiare con un insegnante perché magari siamo fossilizzati su quell'insegnante lì, ci piace tantissimo, lo possiamo fare. Quindi, ad esempio, andiamo a vedere Filmer per quanto riguarda la batteria che ha fatto un sacco di serie, un sacco di contenuti, dalle pronunce del groove alla dinamica, la correttura della batteria, il timing, la velocità. Ha addirittura fatto una serie completa su Steve Ferron e Steve Jordan anche perché Filmer ha avuto il piacere di collaborare, proprio di essere a stretto contatto con Steve Ferron. Oltre a spiegarci didatticamente come è l'idea e lo stile di Steve Ferron, ci spiega anche un sacco di aneddoti, un sacco di cose che gli sono successe proprio con Ferron. Quindi, in questo caso, Vibely, la figata è che può essere utilizzata, ovviamente per uno scopo didattico, ma anche proprio per uno scopo di intrattenimento. Quindi, mi guardo questa serie, conosco meglio Ferron e capisco come funziona tutto quel mondo batteristico lì. Andiamo ancora avanti con i filtri e il filtro dopo è la questione di difficoltà. Come abbiamo visto, c'è la difficoltà da zero, quella con le mie serie, e ce ne sono altre tre. Principiante e ci appaiono tutte le serie, mettiamo batteria, per principianti. Quindi, doppio pedale da zero, spazzoli, come vi dicevo prima, l'alfabeto ritmico, i groove fondamentali, la differenza sostanziale tra match e traditional grip, che per i batteristi è sempre un po' una lotta continua. Qui è tutto spiegato bene. E, andiamo avanti, passiamo a intermedio. Ovviamente, per chi non è ancora un super super batterista, ma comunque suona già abbastanza bene, e quindi ha bisogno di nuovi spunti, guardate quante serie per batteristi intermedi ci sono, dallo stile di Travis Barker al reggae, tutto reggae spiegato, Half Time, sempre di Daniel Fasano, lo stile di Mike Pornoy fatto da me. E, ovviamente, per i batteristi più forti, per i batteristi super, allora si può andare a difficoltà avanzata, dove Federico Paolovi ci spiega le batterie che ha costruito lui, le batterie che ha pensato lui con i Destridge, la creatività sugli assoli di Max Furian e come migliorare sul timing insieme a Film Air. A tutto questo si aggiunge ancora un filtro, che secondo me è uno dei più belli di tutti, e cioè il filtro per genere. Quindi, tutte le serie hanno una certa tipologia di genere musicale, quindi noi, in base a quello di cui abbiamo bisogno, possiamo scegliere quello che fa per noi. Ad esempio, se io scelgo Rock, perché io sono un rockettaro, mi escono tutte quante le serie del Rock. Andiamo, come sempre, a mettere batteria. Qui, ad esempio, abbiamo lo stile John Bonham, i linear spiegati sempre da Daniel Fasano, quindi qua abbiamo tutto quello che ci può interessare per quanto riguarda il rock. Questa cosa può essere applicabile per qualsiasi genere, rock, blues, funk, reggae, hip-hop, cioè ci sono veramente una marea, una marea, una marea di generi. Ultima cosa che vi voglio far vedere è la questione insegnanti, perché ci sono tantissimi insegnanti, come vi dicevo prima, sono più di 30 insegnanti, che sono sempre in continuo aggiornamento come tutto vibely, dagli strumenti alle lezioni, alle serie, agli insegnanti, tutto quanto. E all'interno che abbiamo? All'interno abbiamo Andrea Kirchhoff, Andrea Bessone, che è fortissimo sul punk, sulla trap music, Andrea Peracchia, Andy Eno, Daniel Fasano, super rock, Fabio Felkirker, Fabio Vitiello, che è il batterista di Biagio Antonacci, è stato batterista di J-Ax, eccetera, Fabrizio Giolas, che lo vedete in verde, perché, come vi spiegavo prima, è un insegnante di tecniche di registrazione, Federico Paolovic, ovviamente vi sto facendo vedere solo in blu, perché sono batteristi, Giacomo Moro, Jacopo Volpe, batterista di Salmo, Lillo Dadone, super forte sul reggae, sullo ska, questi generi qua, ci sono anch'io, Max Furian, batterista storico italiano, Filmer, Stefano Bagnoli, per quanto riguarda il jazz, Tancredi Locinio, che, per chi non lo conoscesse, è laureato al Berklee College of Music, è un batterista pazzesco, ha fatto delle serie sulla tecnica, come avete visto, e anche delle serie un po' più matte, su tutta la questione displacement, su uscire, entrare dal tempo, ma essere perfettamente consapevoli di quello che si sta facendo. Quindi, tutto questo è vibely, in pratica. Come vi ho detto, è sempre tutto in costante aggiornamento, quindi, gli insegnanti, le serie, gli strumenti addirittura. Quindi, già nei prossimi mesi usciranno sempre tantissime novità, e utilizzando lo sconto, che vi lascio anche qui sotto in descrizione, che comunque è Drums30, potrete avere tutto quanto a 8 euro al mese. Quindi, con 8 euro avrete tutto incluso, tutti gli strumenti, tutte le serie, tutte le lezioni, tutti gli insegnanti, tutto, 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 tutto quanto. 8 euro, ve lo ripeto. Quindi, io sono veramente, veramente felice di tutto questo, perché siamo riusciti a creare una piattaforma veramente completa per qualsiasi tipo di musicista. Più che altro perché, in questo modo, con questa tipologia di didattica, ogni batterista, ma ogni musicista in generale, ha la possibilità di capire veramente qual è la sua strada, e qua ha tutti i mezzi per poterla percorrere con i migliori insegnanti italiani. Ve lo ripeto, anche questo, perché è pazzesca sta roba. Ce l'avete tutti qui dentro. E, in più, oltre questo, perché io vi sto parlando sempre di batteria, perché siamo batteristi, ma comunque avete tutto incluso. Quindi, che ne so, se vogliamo imparare un nuovo strumento, prendiamo le serie da zero, ad esempio di chitarra, e possiamo imparare la chitarra partendo da zero, guardando le lezioni, suonando sulle basi, capendo bene tutto quello che viene suonato dai PDF, scoprendo tutto. Raga, abbiamo tutte le possibilità del mondo. Quindi, io vi ricordo che, solo per voi, c'è il codice sconto DRUMS30. Vi ricordo che finisce il 29 novembre, quindi avete questa settimana del Black Friday per poterlo utilizzare. Oltre questo, se accedete, avete anche 21 giorni gratuiti in cui potete provare Vibely come volete. Non preoccupatevi di chiedere al metodo di pagamento quando dovete entrare. Tranquilli, è solo un modo per capire che la vostra utenza sia veramente reale e il vostro metodo di pagamento sia verificato, ma i 21 giorni sono completamente gratuiti. Tranquilli. Quindi, codice sconto DRUMS30. Io spero di avervi tolto un po' di dubbi, magari se ne avevate, su Vibely. Se non conoscevate Vibely, spero vi sia piaciuto. Spero vi sia piaciuto tutto Vibely. di questo video, me, boh, vabbè, direi che posso finirla qua e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!